buongiorno amici del canale nuovo giorno stanotte abbiamo dormito abbastanza bene ci troviamo in un'area camper qui subito dopo il confine della francia con la spagna siamo in territorio spagnolo e praticamente c'è cinzia che sta sta facendo un po di bucato vero ti stai facendo anche il bagno vedo che ti stai facendo anche la doccia vedo si prendo la gomma ti do una sciacquata ciao a tutti sta facendo un po di bucato la mia dolce mogliettina mi sta lavando delle magliette vedete com'è brava molto molto brava risciacquiamo in mezzo a questi non c'è un lavandino è qui è proprio spartano comunque perlomeno c'è un po di anni approfittare di quello che c'è la vita del camperista e così diciamo che i servizi in giro ci sono le lavanderie ci servizi lì ci sono assolutamente però per due magliette non vado in lavanderia perché ci mettiamo mezza giornata cioè non ha non avrebbe senso si sia tanta roba si va a fare un lavaggio e via qua ci sono io abbiamo lasciato la jonchera siamo partiti dopo le tre dalla jonchera che avremmo dovuto partire già questa mattina per fare un po di strada verso l'interno della spagna però diciamo che abbiamo dovuto girare un po di posti un po di negozi per cercare un adattatore sempre per il discorso lo vedete nel video precedente a questo per il discorso dei raccordi per la bombola del gas del camper e quindi volevamo comunque un qualcosa che si portasse anche per le bombole qua in spagna se dovessimo cambiare la bombola in francia non abbiamo avuto bisogno al momento però tanto comunque ci siamo informati lo stesso nel negozio di narbona dove siamo andati ieri e visto che siamo qua in spagna ci siamo informati anche qua ma al momento non abbiamo trovato un raccordo che andasse bene infatti adesso stiamo andando verso figueres dove ci hanno consigliato di andare per cercare una ferramenta o un l'erua merlaine ci hanno detto un l'erua merlaine per trovare questo questo raccordo si dove è probabile trovarlo in spagna l'attacco delle bombole è diverso da quelle da quello francese ovviamente sono come fanno a farti tribulare farti spendere soldi abbiamo abbiamo girato diversi posti stamattina ma hanno solo in realtà l'abbiamo trovati gli adattatori che è un adattatore a innesto dalla parte superiore a un innesto ma sono adattatori un po ancora a modello vecchio dove si inserisce il tubo il classico tubo come c'era una volta quello blu adesso è arancione ma insomma il sistema è lo stesso con ancora con la fascetta quantiquato noi abbiamo modernato il pianto del gas scusate un po di tosse già tempo fa c'è anche un video o dei video non so se ce n'è più di uno dove facciamo vedere la modifica che abbiamo fatto comunque l'impianto della truma della tua contro e hanno i flessibili con le ghiere quindi molto più sicuri con la valvola di sicurezza e invece questi sistemi qua il classico classica fascetta ancora per noi non va bene cerchiamo lo stesso modello di adattatore ma invece di avere questo tipo di attacco a noi serve che esce con un filetto dove la nostra ghiera del nostro flessibile va avvitata a questo questo filetto bisogna bisogna girare per un po di pazienza e prima o poi lo troveremo anche perché ci serve sì perché poi in spagna è possibile che avremo dovremmo cambiare la bombola prima o poi quella che abbiamo penso che pochi giorni e finisce e poi la la seconda bombola che abbiamo preferiamo non tenerla comunque di riserva di scorta per qualsiasi cambiare solo una prenderne una spagnola e cambiare solo una non tutte e due modo che poi al rientro abbiamo comunque ancora una bombola insomma per gestircelo poche parole per gestirci il gas e vedremo adesso diamo questo posto qui se lo troviamo vediamo come andrà a finire ok comunque vi mettiamo in descrizione un video dove salvatore aveva installato i filtri gas della truma e lì fa vedere un po il funzionamento di delle bombole no giusto sì spiegazione di come funziona funziona il nostro impianto è un impianto di ultima generazione insomma è qualche anno che c'è per il momento è solo qualche anno che c'è per il momento è il sistema migliore insomma e anche più sicuro poi hai trovato qualcosa nada neanche dalle ruo a merlin mi ha esagerato diversi posti come detto prima adesso vediamo se riusciamo a trovare un posto qua cerco su internet se c'è qualche posto per gli accessori per il camper abbiamo trovato un altro posto vedremo a san per pescador poco fuori da girona dove vendono articoli per campeggio adesso ci stiamo dirigendo lì per vedere se c'è il pezzo che ci interessa oltretutto si è messa anche a piovere si è messa anche a piovere si è messa anche a piovere adesso ha tolto un po di polvere dai e mele rosse qua abbiamo tante piantagioni di frutta guarda che belle mele sono stracariche di mele guarda quante belle fruttenti che ci sono qua poi oltretutto è pieno di girasoli questi sono girasoli che sono un po mosce adesso in fase calante anche qua c'è davvero di girasoli ma sono tutti secchi siamo arrivati a camping shop non lo so solo vedere il posto che piccolino non ci dà molta fiducia nel senso che non so quanto si è fornito di accessori non sappiamo vediamo un po avemus papa ma dai a sto posto che pensavamo che non avesse niente vedi vedi tu lo hai sminuito no tu l'hai sminuito non io avemus papa ce l'ha al pezzo giusto il prezzo giusto no vabbè il prezzo è un prezzo onesto costa solo 240 euro ma va 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 allora questo è quello che ci serviva tutti quelli che trovavo io in commercio qua come spiegavo precedentemente non c'è non escono con il filetto ma bensì escono col portagomma modo da inserire il tubo si mette la classica fascetta e via non riuscivamo a trovarlo con questo filetto noi abbiamo questo raccordo qui che abbiamo comprato in precedenza come già detto prima che va bene anche in francia quindi con questa con questo raccordino qua di 4 90 abbiamo risparmiato un sacco di soldi 4 euro 90 vedete questo con la sua guarnizione c'è la guarnizione dentro lo si avvita qua l'ideale sarebbe farlo vedere anche sul flessibile che abbiamo noi nel vano possiamo anche farlo vedere questo qui è l'attacco che si mette sulle bombole non so se riuscite a vederlo farlo vedere lì le bombole hanno quella parte superiore della bombola che esce fuori si vedete questa parte sopra la bombola questo raccordo in su verso questo pezzo che c'è in più quello lì si inserisce qua dentro vedete questo è un innesto rapido si infila questo qua così track si incastra e il gas esce ok e qua va avvitato il nostro flessibile che se facciamo facciamo vedere però per poterlo fare vedere bene dovrei smontarlo dalla bombola insomma questa parte qui si avvita il flessibile che abbiamo noi generalmente in italia le abbiamo quasi tutti così dico quasi perché gli impianti vecchi hanno come dicevo in precedenza invece del filetto il portagomma vecchia maniera con la fascetta ve lo faremo vedere quando ci capiterà di cambiare la bombola abbiamo speso più o meno sui 20 euro per questo aggeggio comunque ho pagato 20 euro e di 20 euro 20 euro e 40 centesimi sì no non mi ha dato lo scontrino ma chi se ne frega va bene come detto in precedenza 20 euro ok online lo si trova a quasi il doppio quindi io avevo intenzione avessimo preso prima l'avremmo pagato di più perché io volevo comprarlo online a casa prima di partire avevo trovato un'azienda che me lo forniva ma quando in quel momento era diciamo non ne aveva quindi vedi che costava 38 euro nel bene nel male che non ne aveva è meglio così vedete questo è il posto dove siamo stati qua se qualche camperista qualcuno di voi che è camperista passa di qua siamo a semper pescador adesso si è messa una macchina davanti volevo riprendere l'immagine del furgoncino per vabbè diamo eventualmente l'indirizzo se qualcuno avesse bisogno noi abbiamo oramai l'indirizzo piuttosto lo scriviamo vi scriviamo qua in sovra impressione l'indirizzo del posto abbiamo trovato questo ricambio sempre se vi trovate da queste parte se vi trovate perché noi siamo venuti di proposito abbiamo fatto una trentina di chilometri fuori percorso per poterlo raggiungere ma alla fine è andata bene sì non eravamo sicuri perché avete visto anche perché problema qual era uno dice sì perché basta che telefoni e glielo chiedi e vatti a fa spiegare per telefono perché lì bene o male gli ho fatto vedere l'immagine sul mio cellulare di ciò che mi serviva a gesti in qualche modo in qualche modo riesce a farti capire sono riuscito a farmi capire in qualche modo con non poche difficoltà perché anche perché loro mi hanno chiesto se mi serviva anche la bombola e io volevo dirgli che la bombola a noi per il momento non serviva che di gas ne aveva ancora solo che non riuscivo a dirglielo ho provato con google translator e non funzionava vabbè l'ho chiusa lì ho preso il pezzo pagato me ne sono andato abbiamo preso l'autopista in spagnolo autostrada si dice autopista autopista da noi in italia era quella quella giostra con le macchinine no l'autoscontro qui in spagna le autostrade poi ve lo diciamo dovrebbero essere gratuite praticamente tutte gratuite quindi ci possiamo anche lanciare in autostrada speriamo che sia così ve lo diremo ve lo abbiamo messo direzione tarragona ma visto che sta cominciando a fare buio abbiamo deciso di uscire in questo paese che non conosciamo però abbiamo visto che vicino all'autostrada si chiama martorelle e qui cercheremo un posto per stare stanotte comunque l'autostrada figata c'è c'è stato un punto dove c'erano cinque corsie veramente e comunque pare proprio che non si paghi perché non abbiamo preso nessun biglietto cioè non c'era nessun biglietto da prendere quindi dovrebbe veramente essere gratis ecco siamo a martorelle siamo entrati in questa cittadina che è tipicamente industriale ci siamo accorti ci sono un sacco di fabbriche e poi abbiamo visto ora questo parcheggio dove ci sono parcheggiati anche degli altri camper quindi sì ma di che cosa c'era sicuramente passeremo la notte qui c'è un tuo cuore in gola sì praticamente all'entrata del paese sì qua vicino qui all'entrata c'era cosa c'era c'erano dei militari praticamente un posto di blocco della della guardia civile non so chi erano tutti i vestiti da militari proprio venuta la guerra si poi avevano nitra poi avevano le catene quelle lì con il fatto a tre gli spunzoni fatta tre per buttarli in mezzo alla strada ma ce ne sono stati una trentina alla trentina forse ce n'erano un po c'erano un bel po c'erano tipo le camionette militari boh ma c'erano di più di dieci ogni ogni uscita era tutto pieno era ce n'era dappertutto con i mitra spianati ha detto oh madonna adesso qua fanno un posto di blocco e rompono i coglioni invece invece no ci hanno fatto passare boh evidentemente cercheranno qualcuno non lo so stavano aspettando qualcuno erano tutti pomposi belli non vedevano l'ora di schiacciare il grilletto secondo me di scaricare il caricatore del mitra cosa ci cucina lo chef stasera lo chef sempre se di suo gradimento penne al salmone dai che profumino di salmone che sento già quello bianco è un po di filadelfia poi gli metto un po di acqua di cottura e la filadelfia fa un po di cremine insomma no adesso mettiamo un po di pepe e poi ve la facciamo vedere dopo pronta questa wow che piattone la mia penne penna penne al salmone per te grazie amore mio e certo ne metto ancora un po mettine un po me un po te per finirlo a siamo e due giorni che stiamo rendendo omaggio a toto cutugno un brindisi a toto cutugno grandissima persona bellissime canzoni assaggio io prima un centimetro e mezzo di parmigiano dove sta si non è proprio da periodo perfetto però perché scusa si è più magari un piatto da proporre però visto che quando non fa tanto caldo e visto che ce l'avevo nel frigo che avevamo comprato comunque prima di ripartire prima di partire detto ma un po di salmone lo compro tra l'altro ne abbiamo ancora uno nel freezer ma lì c'è proprio la polpa il filetto quello dire oggi ha piovuto eh sì come avete visto abbiamo beccato acqua tutto il giorno probabilmente domani forse tempo anche brutto vero sì dovrebbe essere brutto domani anche è un po piccante io ho messo un po di eh gli spagnolini siamo in spagna spagnolini eh già è già è vero dai mangia anche te dai mi 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 mi